Questo è il cantiere, per adesso abbiamo fatto solo i lavori di sistemazione del terreno. Abbiamo fatto gli scavi per le fondazioni della turbina. Ora abbiamo montato gli impianti di betonaggio nel fondo, sono arrivati all'interno dell'attività di costruzione. Abbiamo avuto l'attività della turbina di gas della Siemens, una turbina di vapor. Abbiamo lavorato questa prima fase del lavoro, che è stata quella dei movimenti di terra, che è stato un'attività di più grande, in cui è stato un'attività di più grande. È stato un'attività di più grande, perché sono i lavori di più. Abbiamo fatto un'attività di più iniziare, ma questo è stato un'attività di più grande. Dal 14 giugno? Dal 14 giugno Sì 300 milioni 300 milioni 300 milioni Questo anno quando sarà l'investimento? Quest'anno sarà vivere mai 100 milioni Vivere mai 100 milioni Quest'anno e quest'altro anno è più L'investimento Sì E' stato un valore C'è stato un valore C'è stato un valore Sì, secondo me sì Sì, è sicuro Sì, sicuro perché quando comincia tutta la fase di costruzione comincia avvare la mano di opera Biasi, perché C'è stato un valore e perché è stato un valore Così, in questo valore Sì, perché hai anche un valore Questa è stata una persona di più altra, perché ho fatto una persona che ha fatto il tuo lavoro, e mi ha fatto una persona che ha fatto il tuo lavoro? Mi ha detto che il nostro regione, che avevano il nostro territorio, abbiamo fatto un'altra parte, e abbiamo fatto un'altra parte, e abbiamo fatto un'altra parte. Quindi, come è stato un'altra parte, perché è un'altra parte, se non è un'altra parte? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, sì, la base, la prefabricazione, i ferraioli, doverte... Ci sono ci sono tanti attività... Gli electricistas... ...le ophiose a comprare, come abbiamo portato questo appare, abbiamo pensato che era molto buon lavoro a comprare... ...egli tuoi e che è un po' un programma di tecnici, ... precondenti le operazioni... ...inorganizzazioni... Prego! Queste sono diverse prospettive della centrale. L'ingegneria della centrale è stata elaborata con un 3D, abbiamo fatto l'ingegneria e poi c'è un 3D, perché sono parti della stessa centrale, per gli altri punti di vista, appunto con questa tecnologia del 3D. La strada è importante e. Grazie a tutti. Grazie a tutti.